Ricordare gli orrori del nazifascismo come antidoto contro il razzismo di oggi è questo lo spirito con cui lunedì 27 gennaio la Toscana celebra il giorno della memoria a Firenze sono 7.000 gli studenti che arriveranno al Mandela Forum per ascoltare le voci dei sopravvissuti e dei testimoni delle deportazioni che colpirono non solo gli ebrei ma anche i rom, gli oppositori politici e i soldati italiani che rifiutarono di arruolarsi per la Repubblica di Salò l'iniziativa di sensibilizzazione delle nuove generazioni della regione va avanti dal 2006 negli anni pari si tiene il meeting e in quelli dispari il terreno della memoria che conduce gli studenti toscani a visitare il Lager di Auschwitz. Quest'anno è l'ottantesimo anno dell'entrata in guerra dell'Italia ed anche il settantesimo anno dell'apertura delle porte di Auschwitz. Dedichiamo questa giornata al tema delle vite spezzate, vite spezzate del passato ma anche vite spezzate del presente. Cerchiamo sempre di attualizzare per far capire che appunto quello che è stato può ritornare. Oggi è stata anche presentata una ricerca sul fenomeno dei nuovi razzismi che purtroppo dilagano anche in Toscana. La nostra regione non è immune da questo problema, tanto è stato fatto ma tanto ancora va fatto. Abbiamo visto come le radici storiche dei nuovi razzismi sono molto forti, abbiamo visto come ci sono anche legami internazionali fortissimi, abbiamo visto come i social media riescono a essere una specie di cassa di risonanza enorme. Contro tutto questo noi vogliamo combattere. Il Presidente Rossi ha lanciato una nuova iniziativa che è proprio quella di rispondere alle falsità con invece quella che è la verità, che è la verità storica e che è la verità anche del contesto in cui viviamo. Tra i testimoni sul palco del Mandara Forum, Tatiana Bucci, deportata a sei anni con la sorella Andra Birkenau, Kitty Brown finita a nove anni nel lager di Ravesbrock e Bergen-Belsen con la madre e Vera Vigevani-Jarak che perse il nonno ad Auschwitz e fuggì con la famiglia in Argentina dove affrontò un'altra tragedia, la perdita della figlia, una dei 30.000 desaparecidos, vittime della dittatura di Videla. La seconda parte del meeting sarà incentrata sul razzismo di oggi con testimoni come Irving Mucic, sopravvissuto al massacro di Sbrenica dove l'esercito dei serbi guidati da Milosevic massacrò oltre 8.000 musulmani bosniaci. I meccanismi che fanno nascere e mantengono forme di razzismo varie molto preoccupanti, molto diffuse. I meccanismi sono quelli di oggi e che erano quelli di ieri. Crisi economica, c'è un po' da fare. Debolezza è la politica. Ricerca di un capo espiatorio cambia, ma insomma spesso sono sempre gli stessi. Alla fine ricerca di un capo, un capo carismatico che risolva tutti i problemi. Ci vogliono non gli antidoti, ma i vaccini, perché il vaccino è il richiamo e quindi noi ogni anno, o col Mandela o col tenere la memoria, ma soprattutto con la preparazione degli insegnanti, adottiamo un vaccino. La Regione quest'anno dedica il meeting ai testimoni venuti a mancare di recente. Pietro Terracina, Vera Michelin Salomon, Marcello Martini e Antonio Ceseri. Un impegno per la memoria che viene portato avanti tutto l'anno in Toscana in luoghi come il Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato. Per noi il giorno della memoria è ogni giorno, ogni giorno dell'anno, perché come forse sapete, vengono in tanti, tantissime scolaresche provenienti da ogni parte della Toscana a visitare il nostro piccolo, ma credo importante museo, che parla appunto in modo molto specifico di quello che accadeva in un lager nazista. Abbiamo un percorso audiovisivo con le testimonianze dei sopravvissuti e anche alcuni oggetti riferiti alla vita e soprattutto alla morte nei campi di concentramento e di sterminio nazisti.